Fabio Coloricchio ha già dimenticato Nicol Mazzocato. Pochi giorni fa, l'extromista argentino di Uomini e Donne e l'ex corteggiatrice, si sono detti addio dopo quattro anni d'amore Una notizia che ha spiazzato i fans della coppia che, dopo aver superato tanti momenti di crisi, stavolta si è lasciata definitivamente Fabio, però, sembrerebbe già pronto per tuffarsi in una nuova storia d'amore. Come svela la pagina Instagram Spisee, Coloricchio si è concesso una cena con Anirsa, ex fidanzata di Rama e ballerina del videoclip della sua canzone nera, Hit dell'estate 2018 Nelle storie pubblicate dalla ballerina, si notano i resti di una cena informale e si sente la voce di Anirsa Fabio non si mostra mai in viso, ma secondo la pagina Spisee, il ragazzo presente nei video pubblicati dalla ballerina sarebbe proprio l'extronista, tornato da poco single Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa.Fabio Coloricchio e Anirsa, la reazione di Nicol Mazzocato Le storie pubblicate da Anirsa non sono passate inosservate all'occhio dei fans che hanno immediatamente inviato una serie di segnalazioni a Nicol Mazzocato L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, di fronte al presunto flirt tra il suo ex fidanzato e l'ex fidanzata di Rama, non ha battuto ciglio Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte P.S. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, scrive su Instagram Stories l'ex fidanzata di Fabio Coloricchio Proprio Nicol, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Spy, ha svelato i veri motivi della fine della storia con l'extronista Non c'è qualcosa di nascosto. Tutti ipotizzano messe in scena e tradimenti, ma noi siamo sempre stati sinceri, prima con noi stessi e poi con gli altri Abbiamo semplicemente caratteri e origini diverse. Per quanto a molti possa sembrare una cosa di poco conto, non lo è Tutto questo ha inciso molto sul rapporto di coppia. Con la differenza che all'inizio pensavo a noi in maniera romantica, che il nostro amore avrebbe superato le difficoltà Ora vedo la realtà in modo diverso, ha spiegato l'amazzocato Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like